Abbiamo iniziato un po' i contratti nel primo tempo e poi dopo la prima fase iniziale siamo venuti fuori andando a cercare un avversario che non era facile andare a prendere perché ha grande padronanza di palleggio tanti uomini che giocano la prima metà a campo e poi sfociano in avanti con grande velocità. Quindi abbiamo sofferto inizialmente e poi siamo stati bravi nel riuscire a impedirgli questo loro possesso e nel creare qualche occasione. Poi nel secondo tempo invece un po' più sciolti abbiamo provato a fare quello che sappiamo fare meglio e abbiamo credo veritatamente portato a casa questa partita. Non c'è fatto ancora niente perché il campionato di Serie B è lunghissimo, è molto complicato però siamo partiti alla grande abbiamo battuto una squadra che noi l'abbiamo fatta sembrare molto in difficoltà perché abbiamo vinto con 3-0 offrendo grande gioco però sarà una squadra e darà fastidio quindi prendiamoci questi tre punti e continuiamo su questa strada. È stata, ripeto come ho detto anche prima, è stato bello esserci in quell'azione e creare un gol del genere. Speriamo ne ripetiamo tanti, la proviamo e riproviamo. Il mister cerca sempre di farci giocare palla a terra quindi quando poi riesce è sempre bellissimo.